Mentre si attende un segnale da Roma, ieri Asso Popolari ha chiesto al Governo e a Banca Italia di emanare un provvedimento che sospenda per un congruo tempo le assemblee convocate per la trasformazione in SPA. Asso Popolari auspica, si legge nel comunicato, che venga rinviato o sospeso per un congruo periodo di tempo il termine per lo svolgimento delle imminenti assemblee, in attesa di conoscere con maggiore certezza il quadro normativo di riferimento a tutela delle banche, ma soprattutto dei loro soci. Lo afferma il Presidente dell'Associazione Corrado Sforza Fogliani, che cita la situazione di profonda incertezza creatasi a seguito delle recente pronunce del Consiglio di Stato, aggravata oltretutto dal fatto che non si conoscono ancora quali saranno i probabili ulteriori profili di incostituzionalità sollevati dal giudice amministrativo nella propria ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale. Asso Popolari auspica così che MEF e la Banca d'Italia non facciano mancare il proprio imprescindibile supporto alle banche popolari che hanno convocato a giorni le assemblee di trasformazione in SPA.